Arriva dagli Stati Uniti d'America, 100 metri alla conclusione per il team Rally QHC con il nido, Bruno Speknotty! La tappa di ieri con traguardo a Ragusa è stata quella che ha svelato il giro, con il suo nuovo protagonista, un americano 21enne, ex campione del mondo, juniores a cronometro. Abituato in pista, ieri ha dato il meglio nel percorso che più di tutti era il suo posto. Poche pianure da Caltanissetta a Ragusa e un continuo saliscendi. Micidiale la salita dalla pianura di Gela verso l'altopiano Ibleo per i tornanti di Comiso e Chiaramonte. Ancora di più la risalita da Ibla dopo la discesa per le vie e i dedali del quartiere barocco. Ma Brandon McNulty, per nulla coinvolto dalla visione romantica delle case su case, come in un presepe che in America non potrebbe mai vedere, ha mantenuto saldo il comando andando a vincere con forza poderosa. Molte le cadute dei ciclisti in una tappa condizionata dalla pioggia, ma alla fine il trend agonistico del tracciato ha retto. Senza discussione il suo vantaggio. 55 secondi, enorme per una gara di questo tipo e in queste condizioni ambientali. Sul podio, terzo classificato, c'è anche il siciliano Giovanni Visconti, neri sottoli. Secondo il norvegese Heiking Hod, convinto di aver vinto la frazione, e arrivato con le braccia al cielo. Gli era sfuggito che avesse già tagliato il traguardo McNulty, nuovo leader della corsa, grazie al fatto che nella terza tappa ha vinto praticamente tutto. A lui la maglia giallorossa. Oggi è stata una giornata difficile, viste le condizioni meteo, ma mi sentivo bene e ho attaccato al momento giusto. Sono in una buona condizione e la squadra mi ha dato un grande aiuto, aiuto di cui avrò bisogno anche domani per provare a difendere la maglia di leader. È da un paio d'anni che mi alleno e adesso ho raggiunto un buon livello professionale. Sono stanco, ma non vedo l'ora di tornare a gareggiare per l'ultima tappa del Giro. Oggi quarta ed ultima tappa, atto finale del Giro di Sicilia 2019. Partenza da Giardini Naxos, premio della montagna a Maletto e gran finale al Rifugio Sapienza, quota 1920 metri. È la vetta del Giro, tornato per restare, ma non tutto è andato benissimo. Una grande vittoria, quella ottenuta da questo 21enne, un grande... Brandon McNulty! Grazie! Grazie! Grazie!